Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Un impegno che abbiamo sempre apprezzato e valorizzato in questi ultimi anni. Un ringraziamento molto sentito da parte nostra va all'Enel, a Enel Cuore Onlus, e in particolar modo alla dottoressa Patrizia Greco, perché questa importante donazione di 500 mila euro a favore dell'UNHCR ci consentirà di dare accesso importantissimo e dare accesso all'istruzione a circa 20.000 bambini e bambine siriane. Il sostegno del settore privato, e oggi in particolare di Enel, è essenziale per affrontare la crisi umanitaria in corso senza precedenti. Una crisi generata prevalentemente dal conflitto siriano. La guerra in Siria ha costretto ad oggi oltre 11 milioni, un grandissimo numero, 11 milioni di persone a lasciare le proprie case. E di queste 7,5 milioni, 7 milioni e mezzo, sono sfollati interni, quindi gente all'interno ancora della Siria, che però ha dovuto abbandonare le loro case, e più di 4 milioni rifugiati, principalmente in Libano, Giordania e Turchia. Gente quindi che è uscita, che è dovuta uscire dal paese. Basti pensare che Libano è un paese di circa 4 milioni di abitanti e ospita 1,1 milione di rifugiati. Persone che hanno bisogno quindi di assistenza umanitaria, ma prolungandosi la permanenza hanno bisogno anche di scuole e assistenza medica. Nell'ultimo anno, dato il peggioramento delle condizioni di accoglienza nei paesi limitrofi, si sono intensificati, e lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto in televisione tutti i giorni, gli arrivi anche in Europa, dove nel gennaio del 2015 sono arrivate già più di 900 mila persone. Di questi, 51% è costituito da donne, uomini e bambini siriani. Le risorse stanziate attraverso l'UNHCR per la crisi in Siria al momento coprono solo il 37% del fabbisogno dell'operazione. E proprio alla luce di questo scenario, Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello alle aziende di questa direzione nel corso del forum del settore privato, ospitato a New York, il 26 settembre del 2015. E in particolare il segretario generale si è rivolto alle aziende che, avendo aderito al Global Compact, hanno già dimostrato di impegnarsi in un percorso di responsabilità sociale con l'obiettivo di invitarle a dare una risposta tempestiva, concreta e solidale a quanti fuggono da guerra e persecuzioni. Il Global Compact, su proposta dal segretario generale, in partenariato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha lanciato un impegno ad agire rivolto al mondo dell'imprenditoria. Molte aziende hanno risposto all'appello a livello internazionale, sostenendo direttamente l'UNHCR. L'Enel, una delle prime aziende italiane ad aver aderito al Global Compact, è l'unica azienda italiana al cui amministratore delegato siede all'interno del CDA del Global Compact, è stata anche la prima azienda in Italia a rispondere all'appello di Ban Ki-moon, con una donazione importante al progetto UNHCR, Educate a Child, con la quale sarà possibile dare accesso all'istruzione primaria a circa 20.000 bambini e bambini in Siria. La Siria è un paese che, prima dell'inizio della guerra, era un'eccellenza in tutto il Medio Oriente in ambito educativo. Dal 2011 ad oggi, purtroppo, ha assistito alla diminuzione del 38% di iscrizioni di bambini e sono infatti 2,4 milioni di bambini che hanno abbandonato la scuola in questi ultimi cinque anni. Due milioni di bambini siriani, vuol dire quasi una grande parte, diciamo, di una totale generazione di bambini siriani. Con il portarsi e l'aggravarsi del conflitto, la situazione degli sfollati interni siriani è infatti drammaticamente peggiorata, soprattutto per i bambini. Molti di questi bambini, che erano iscritti a scuola, sono stati costretti ad abbandonare e a muoversi in aree più sicure per motivi di sicurezza. La procedura per la reiscrizione in nuove scuole sono sempre più difficili, e sempre più difficili, perché le scuole pubbliche ancora aperte sono sovraffollate dall'arrivo degli sfollati interni. Molte volte non viene permessa l'iscrizione per mancanza di riconoscimento dei percorsi scolastici frequentati dai bambini negli anni precedenti, e si aggiunga a tutto ciò che la discriminazione sociale nei confronti dei bambini provenienti da altre aree del Paese è purtroppo molto presente. In questo difficile contesto, l'UNHCR si è posta all'obiettivo di garantire l'accesso all'istruzione primaria. Siamo fermamente convinti che la scuola rappresenti per i bambini una risorsa importantissima per proteggere loro stessi e le loro famiglie dallo sfruttamento, ma per sostenerli anche nella costruzione del loro progetto di vita. Inoltre, nel breve e medio termine, la possibilità di accedere all'istruzione restituisce ai bambini e restituisce ai bambini vulnerabili dal conflitto un senso di normalità. Con la sua preziosa donazione, l'Enel garantirà l'accesso all'istruzione a oltre 20.000 bambini, bambini rifugiati, attraverso cinque attività principali. La costruzione e il recupero di edifici scolastici, il sostegno economico diretto alle famiglie, i corsi intensivi di un anno per permettere ai bambini di recuperare gli anni persi a causa della guerra, e questa è la cosa principale, organizzazioni di sessioni di counseling ed orientamento sull'accesso all'istruzione, e la quinta è la formazione di docenti per trasferire loro le competenze adeguate per insegnare a bambini vulnerabili in classi sovraffollati. È importante sottolineare che la mancanza di accesso all'istruzione viene annoverata tra i sette fattori principali che inducono le famiglie siriane a rischiare, ad affrontare il pericoloso viaggio verso l'Europa, non potendo garantire ai propri figli un futuro all'interno del proprio Paese. Per questo, dare accesso all'istruzione è una delle priorità dell'HCR in questa situazione. Serve uno sforzo congiunto da parte di tutti, governi, settore privato e cittadini, per rispondere a questa crisi epocale e l'assenza dei finanziamenti resta ancora uno dei nodi irrisolti. Senza un investimento ulteriore, continuerà la spinta a partire. Le migliaia di rifugiati in movimento stanno fuggendo soprattutto per evitare le persecuzioni, l'insicurezza e le conseguenze della guerra civile. Il momento storico che stiamo vivendo lo descriverei come un momento decisivo per l'Europa, per la società nel suo insieme, per le organizzazioni internazionali è ultimo, ma non meno importante, per i rifugiati che cercano di raggiungere non solo la sicurezza, ma un luogo in cui possono iniziare il difficile compito di ricostruire le loro vita. L'Europa ha la capacità e le competenze per gestire con successo tale fenomeno, anche se molto difficile. È necessario che l'Unione Europea, che vuole rivestire un ruolo autorevole nel panorama internazionale, faccia fronte a tale emergenza in modo efficace. La sfida per trovare e mettere in atto le soluzioni è stata lanciata. Non usciamo né sconfitti, perché rischiamo di perdere qualcosa di fondamentale e inestimabile, i nostri valori più profondi, che ci identificano, che dicono al mondo chi siamo, in che cosa crediamo, e questa sarebbe la sconfitta peggiore. Non posso che concludere rinnovando i miei ringraziamenti personali, a nome dell'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, all'Enel, ed Enel nel cuore, con l'augurio che sia solo un inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione. Ci auguriamo anche che altre aziende italiane vogliano seguire l'esempio e vogliano rispondere all'appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite, unendosi ad uno sforzo di solidarietà che ci auguriamo continui ad essere intrapreso anche dai governi in linea con quanto già intrapreso dall'Italia. Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione, rinuovo il mio ringraziamento al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per la sua presenza e per l'ospitalità in questa importante occasione. Grazie. Bene, sono anch'io un po' emozionata, è una giornata importante. Il progetto vi è stato descritto. Io vorrei rubarvi solo pochi minuti per dire perché Enel. Enel non vive la sostenibilità come un insieme di dati che alla fine dell'anno costituiscono il Sustainability Report. Enel vive la sostenibilità davvero come parte della propria strategia e non a caso è stata inserita tra le prime cinque aziende al mondo da Fortune come le aziende che possono cambiare il mondo. E per una utility che ha a che fare con energia elettrica questo è un segnale davvero importante. Allora, nel nostro approccio alla sostenibilità fondamentale è il contributo che noi possiamo dare alle nuove generazioni perché non c'è sostenibilità senza nuove generazioni. Da questo punto di vista noi abbiamo lanciato il progetto Fare Scuola quest'anno per cui nel nostro Paese, dove purtroppo esistono situazioni di carenze anche da noi, nel nostro Paese interverremo sul rifacimento di aule per la didattica in circa 60 scuole. Portiamo il progetto Play Energy in giro per il mondo nei Paesi in cui siamo presenti. Abbiamo toccato quest'anno 450 mila ragazzi. Portiamo l'elettricità nei Paesi, per esempio in Kenya o nei Paesi del Sud America perché peraltro talvolta ci dimentichiamo che senza la luce non si può studiare e quindi è difficile parlare di educazione e formazione. Questi sono i motivi che hanno portato Enel a sostenere l'alto commissariato per i rifugiati per questa iniziativa in Siria. Noi ne siamo orgogliosi e poi vi devo dire a titolo personale io non voglio abituarmi a vedere le foto dei bambini affogati sulle spiagge della nostra civilissima Europa e credo che nessuno di noi dovrebbe abituarsi a queste immagini. Mentre mi rendo conto purtroppo che dalla foto del primo bambino, Alian, si chiamava Elian già c'è un certo tipo di assuefazione. Ecco io credo che noi dobbiamo difendere i nostri valori attraverso la cultura, attraverso la formazione e non vorrei vedere appunto l'Europa, avere le spiagge d'Europa come cimiteri di bambini. Da questo punto di vista investire nella cultura vuol dire investire nell'integrazione e quindi io devo dire che condivido molto l'iniziativa prevista adesso, credo nell'ultima, nella legge di stabilità di destinare per ogni euro alla sicurezza e un euro alla cultura perché credo che non ci sia sicurezza senza integrazione e senza cultura. Ma su questo punto lascio la parola al Presidente. Buongiorno a tutti, sono davvero grato ad Enel per aver associato Palazzo Chigi a questa occasione di presentazione del progetto. Loro hanno ringraziato, ma sono io che ringrazio, a nome del Governo e a nome dell'Italia. Ringrazio naturalmente innanzitutto Enel, Patrizia Grieco è la Presidente, svolge un lavoro straordinario in tandem con l'amministratore delegato Francesco Starace. Stanno continuando a costruire un'azienda sempre più forte, sentirete sempre più parlare di Enel nel mondo e sarà un motivo di orgoglio per noi continuare a vedere i risultati che abbiamo visto sulle Ande o che abbiamo visto in Africa. Naturalmente continuando a investire in Italia perché tutto ciò che Enel sta facendo sul tema della tecnologia, dell'innovazione, penso ai contatori intelligenti, penso alla banda larga, dimostra che un pezzo della scommessa energetica del futuro sta nelle nuove tecnologie. E Enel è un'azienda meravigliosa a livello mondiale, molto forte, di cui lo Stato italiano è davvero orgoglioso e contemporaneamente anche un po' geloso, per cui siamo davvero felici di accogliervi. Ma il grande progetto di Enel è un progetto, lo ha detto molto bene la Presidente Grieco, lo ha detto molto bene Patrizia, che affronta e abbraccia il tema della sostenibilità in un orizzonte molto ampio, in un orizzonte di valori. È bello sentire una manager, la Presidente di un'azienda, dire io non mi voglio abituare alle immagini dei bambini che muoiono nel Mediterraneo, o comunque nel mare d'Europa, perché quel mare è un mare europeo, il mare turco, il mare greco, il mare italiano, il mare che tutti i giorni siamo abituati a vedere, ma che ormai lasciamo passare, come se non ci toccasse più. I dati di oggi dicono 700 bambini, è difficile fare un ranking. E non bastano i numeri, avevano dei nomi, avevano delle storie, avevano dei giocattoli, avevano delle famiglie che li aspettavano. Credo che sia un dovere morale ricordare innanzitutto a noi stessi che se siamo donne e uomini non possiamo farci passare addosso come se niente fosse ciò che sta avvenendo. Lo dico qui, da Palazzo Chigi, perché questa è la stessa sala in cui ho parlato il 15-16 aprile, quando venne fuori la notizia del dramma di una nave, il cuore del Mediterraneo. Una nave che noi vogliamo riprendere e tirare su per dare sepoltura a quei bambini che erano chiusi a chiave nella stiva, a quelle donne, a quegli uomini che erano chiusi a chiave nella stiva. Noi in Italia facciamo così. Noi in Italia non ci lasciamo emozionare per un momento, come fa qualche collega europeo e poi si dimentica di quello che succede. Noi siamo donne e uomini con tutti i nostri limiti che paghiamo di tasca nostra ma vogliamo dare una sepoltura a quelle nostre sorelle, a quei nostri fratelli e naturalmente vorremmo che non ne morissero più. E quindi credo che sia fondamentale appoggiare sempre di più, non soltanto come Governo. Considerate che quest'anno aumentano i soldi per la cooperazione internazionale, per la prima volta negli ultimi dieci anni. Considerate che quest'anno per la prima volta torniamo ad essere orgogliosi degli investimenti fatti in questo settore. Non sono soldi buttati via, in questo settore sono investimenti per il futuro e quindi quello che fa la parte pubblica, che fa lo Stato italiano, non è sufficiente. È fondamentale che i privati diano una mano. Da questo punto di vista Ban Ki-moon ha fatto un appello importante, sono orgoglioso che Enel sia stata la prima a rispondere e sono orgoglioso che la partnership sia con UNHCR. Carlo Lorenz, benvenuto a Palazzo Chigi, grazie per il tuo e il vostro lavoro. Ti prego di portare la nostra riconoscenza all'Alto Commissario, a Gutierrez. Tra qualche giorno ci sarà un nuovo Alto Commissario. Siamo orgogliosi che sia stato scelto un cittadino del mondo di passaporto italiano, quale Filippo Grandi. E siamo orgogliosi di dire che già dal prossimo anno aumenteremo il contributo per UNHCR, portandolo in quello che Filippo e tutti voi chiamate il 20 million dollar club. Lo dicono in inglese, ma sono soldi che si capiscono anche in italiano. È giusto che sia così. 500 mila euro di Enel consentono a 20 mila bambini in Siria di andare a scuola. È l'1% dei bambini che hanno smesso di andare a scuola in Siria, se i numeri sono quelli che abbiamo sentito. L'1%. Se ciascuna grande azienda del mondo facesse l'1% dello sforzo necessario. E se ciascuno di noi capisse che questi denari che Enel investe, come li investe a Olague, che è un piccolo paesino sulla cordigliera tra Cile e Bolivia, dove si insegna le donne a utilizzare i pannelli fotovoltaici, è una cosa meravigliosa, c'è un video di Enel che vi suggerisco di andare a guardare. Se ciascuno facesse quel pezzettino di strada, sarebbe davvero più facile combattere l'ingiustizia e l'assurdità di ciò che stiamo vivendo. Perché con le reazioni a caldo, con le reazioni di pancia, si occupano i titoli dei giornali. Ma quello che serve oggi è una strategia di lungo periodo, in Siria, in Iraq, in Libia, in Africa, nel cuore dell'Africa e anche alle periferie del nostro mondo, a quelle che consideriamo periferie che sono sempre più centrali. Ieri ho avuto la fortuna di cenare con un uomo straordinario, quale il re di Giordania, con sua moglie, la regina Rania. Nel pomeriggio tornerò a incontrare Sua Maestà durante un incontro organizzato dal nostro Ministero degli Esteri. Si parla tanto di tante realtà, ma in Giordania, la seconda città della Giordania è un campo profughi, un milione e mezzo di persone. Voglio che vada da qui oggi il nostro abbraccio affettuoso ai militari italiani che sono in Libano, ma soprattutto l'abbraccio è un abbraccio che porto a nome di tutto il Paese, a queste donne e a questi uomini che aiutano a riportare e a conservare più correttamente la fase. Ma quella è un'altra regione di cui non si parla, che è una regione in cui il numero dei rifugiati è impressionante. Bene, tutto questo mi porta a dire che l'Italia, dal giorno dopo quella conferenza stampa in questa sala, ha lavorato duramente perché il tema delle nostre sorelle e dei nostri fratelli rifugiati potesse essere un tema europeo e mondiale. qualcosa si è mosso, non ancora a sufficienza, l'Europa non sta facendo tutto quello che deve fare. Noi abbiamo iniziato il nostro lavoro, abbiamo aperto gli hotspot, il primo a Lampedusa, il secondo annunciato dal Ministro Alfano, il terzo lo annuncerò la settimana prossima al Consiglio europeo, abbiamo cinque hotspot da realizzare, li realizzeremo tutti e cinque. Non è partito ancora il processo di relocation come avremmo voluto che partisse, non è ancora matura la consapevolezza che questo tema è un tema sul quale l'Italia non ha bisogno di un aiuto dall'Europa, è l'Europa che ha bisogno di capire se vuole essere se stessa o vuole tradire i propri ideali. Noi possiamo fare anche senza l'Europa, è l'Europa che non può fare senza se stessa, che non può perdere la propria dignità e il proprio ideale. E non basta lavarsi la coscienza dando un po' di soldi a qualche Paese, occorre avere l'intelligenza di capire che un bambino che va a scuola significa che l'Europa vince la propria sfida, perché la nostra sfida non è tanto su misure economiche, ma sul fatto di essere una comunità di donne e uomini e non soltanto un insieme di codici fiscali. Per questi motivi voglio dire all'UNHCR che ci siamo, che l'Italia farà la sua parte, voglio dire a Enel che siamo orgogliosi di come sta lavorando il management e tutta la grande famiglia di Enel, voglio dire che mandare un bambino a scuola è la cosa più bella e più grande e più giusta che si possa fare nel mondo, voglio dire che l'Italia non farà mancare i propri sforzi sul piano della sicurezza, militare, diplomatica, nelle prossime ore un importante appuntamento a Roma sulla Libia, noi facciamo la nostra parte da grande Paese e da grande potenza quale siamo, ma contemporaneamente pensiamo, lo ha detto Patrizia e lo ribadisco, che per ogni centesimo investito in sicurezza occorre un centesimo investito in educazione, per ogni centesimo investito in polizia occorre un centesimo investito in cultura, per ogni telecamera che ci rende più sicuri, abbiamo bisogno di un teatro che ci renda più liberi e per ogni investimento che facciamo sulle porte blindate, noi stiamo studiando dei meccanismi molto semplici di defiscalizzazione per chi vuole prendere una porta blindata, perché è giusto che chi ha bisogno di sentirsi più sicuro possa farlo, ci sia però la possibilità di spalancare la propria mente nei musei, nei teatri, nei cinema, questa è l'Italia e con buona pace di tante polemiche europee siamo orgogliosi di fare così, noi in Italia facciamo in un modo diverso da quello di altri Paesi che strillano il giorno dopo la tragedia e poi si nascondono, la tragedia è tutti i giorni e il fatto che noi non stiamo dando un nome ai bambini che sono morti ieri non significa che quei bambini non sono morti e quindi c'è bisogno di fare di tutto, tutti insieme per andare in questa direzione. Quindi caro Lorenz grazie di cuore, ho l'impressione che l'UNHCR sarà sempre di più di casa, ma lo è già in Italia e noi siamo molto orgogliosi di tutto ciò. Grazie Patrizia per il lavoro di Enel, invito per quanto di mia competenza, adesso Filippo mi sgrida, ma la stampa a dare grande attenzione al lavoro costante e quotidiano sui temi della cooperazione che fa la Farnesina sicuramente, ma che fanno anche le nostre aziende private e se volete prendiamo due domande, magari almeno una fatela sul tema della conferenza stampa, almeno una, cioè due domande al volo Filippo se vogliono, se no la prima è sul tema della conferenza stampa. La prima non è sul tema della conferenza stampa. Ma guarda, non l'avrei mai detto. Sarà la seconda allora, quindi mettetevi d'accordo. Simonetta Di Pillo, Tg5. Volevo sapere come pensa il Governo di sostenere azionisti e obbligazionisti per il caso delle banche, abbiamo anche un caso drammatico di suicidio. Cosa intende fare se da Bruxelles dovesse arrivare il no definitivo per la Bad Bank e se il Governo ha già pensato a delle misure per il futuro per evitare che accadano di nuovo casi simili? Il mondo delle banche è un sistema molto complicato, è un mondo molto complicato. Posso dirla così con una certa dose di sintesi. In Italia ci sono tante banche. La grande maggioranza sono solide, sono ben governate, ma ci sono più banche che nel resto d'Europa. Noi dobbiamo favorire un processo in cui le banche piccoline si mettono insieme. Questo vuol dire qualche poltrona in meno per i consigli di amministrazione, qualche direttore generale in meno delle banche, qualche potere territoriale in meno e un sistema un pochino più solido. Questo lavoro andava fatto dieci anni fa, non oggi. Lo stiamo facendo oggi perché negli ultimi dieci anni non è stato fatto. Va in questa direzione il decreto sulle banche popolari che ha fatto questo Governo lo scorso gennaio, va in questa direzione il provvedimento sul quale stiamo lavorando con le banche di credito cooperativo, va in questa direzione tutto lo sforzo che il Governo ha fatto, può fare e potrà fare. Le regole delle banche adesso le decide l'Europa. Fino a dieci anni fa non era così e molti Paesi hanno messo un sacco di denari pubblici per salvare le banche. Do un numero. La Germania ha salvato le proprie banche con 247 miliardi di Euro. Le dico, l'Italia non ha messo denaro pubblico. È stata una scelta dei precedenti governi. Fatto sta che oggi le regole sono cambiate, sono cambiate a livello europeo. Noi, anche se volessimo, non potremmo più fare come è stato fatto in passato da altri Paesi. Il nostro sistema è comunque più solido. Io, per esempio, non ho alcuna difficoltà nel dire che il sistema bancario italiano, a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, è più solido di quello tedesco, ad esempio, nonostante tutti questi denari che sono stati messi. È oggettivamente più solido di quello tedesco. Ma alcune realtà avevano bisogno, lo abbiamo visto, di interventi immediati. Cosa ha fatto il governo italiano? Quando si è capito che quattro banche, le quattro banche di cui lei ha parlato nella sua domanda, rischiavano di non aprire più, rischiavano di chiudere, perdendo quindi tutti i posti di lavoro. E non le azioni, ma i soldi dei conti correnti, noi siamo intervenuti. E sono molto lieto della misura che ha preso il governo, perché questa misura del governo ha permesso di salvare i conti correnti dei cittadini che andavano in quelle quattro banche. E ha salvato migliaia di posti di lavoro. È impossibile per le regole europee salvare in modo definitivo gli azionisti di quelle banche e quelli che vengono chiamati gli obbligazionisti subordinari. Tuttavia noi stiamo cercando, con grande impegno, con grande determinazione, con grande tenacia, di poter individuare una soluzione che tenga aperto anche per costoro, soprattutto per gli obbligazionisti, una soluzione che permetta loro, nei limiti delle regole europee, che purtroppo non scriviamo noi, di avere comunque una forma di ristoro. Vedremo le modalità, vedremo se sarà possibile. Ci vorrei essere molto chiaro, quindi. Il governo ha fatto un decreto che ha permesso di salvare migliaia di posti di lavoro e tutti i conti correnti. Gli obbligazionisti subordinati, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cercheremo di affrontarne le difficoltà, non sono abituato a strumentalizzare la vita e soprattutto la morte di alcune persone. Naturalmente il nostro dolore, il nostro sentimento di condoglianza alla famiglia, quello che però è fondamentale che esca con molta chiarezza da parte nostra al lavoro per trovare le soluzioni laddove è possibile. Meno male che abbiamo fatto quel decreto, perché se non c'era quel decreto la situazione era decisamente peggiore. E lasciatemelo dire, credo che su questi temi c'è la piena disponibilità da parte del governo, vorrei dire quasi l'interesse da parte del governo, a che tutte le autorità preposte facciano tutti gli sforzi per capire e chiarire le responsabilità del passato. Noi non abbiamo nessun problema, se lei me lo chiedesse, non me l'ha chiesto, quindi me lo auto chiedo e glielo dico, io vedo di buon occhio il fatto che il Parlamento possa, nei limiti naturalmente nel rispetto del ruolo del Parlamento, aprire commissioni di indagine o sindacati di valutazione su ciò che è avvenuto nel sistema bancario italiano europeo degli ultimi dieci anni. Mi sembrerebbe un'ottima idea rispetto ai cittadini. Detto questo, mentre si discute su di chi sono le responsabilità, il governo è intervenuto per salvare i soldi delle famiglie, ci sono alcuni, sono circa diecimila in Italia, obbligazionisti subordinati. Alcuni di questi, più o meno consapevolmente, hanno ottenuto un rendimento più alto rispetto a quello che avrebbero ottenuto semplicemente con il conto corretto e con i titoli di Stato. Altri non sapevano, o perlomeno ritengono responsabili i dirigenti delle singole banche di quello che è accaduto. Giusto fare chiarezza dunque, ma con un principio chiaro. Le regole le ha fatte l'Europa. Dentro le regole il governo ha fatto di tutto per salvare coloro i quali potevano essere salvati ed è stato un intervento, credo, molto serio e significativo. Prenderei la seconda domanda sulla questione dei rifugiati. Gabriele Martelloni, Rai News 24. L'è detto più volte che in Siria si rischia una Libia abiss. È stato attaccato anche ieri duramente ancora da Salvini per l'atteggiamento cauto dell'Italia. Vorrei una risposta su questo e poi siccome ha annunciato questo vertice internazionale a Roma sulla Libia, qual è la proposta che presenterà l'Italia e se ci può dare qualche anticipazione in questo senso. L'atteggiamento cauto dell'Italia è un atteggiamento di serietà e di assoluto buonsenso. C'è un racconto del nostro Paese che mi sento di respingere con forza, cioè di un Paese che non si assume le sue responsabilità. Vorrei ricordare a tutti voi che cosa fa l'Italia. L'Italia è in Afghanistan e ha la responsabilità con i propri uomini, con la Iulia, di un settore importante come quello di Erat. L'Italia è in Libano e con i propri uomini, con un proprio uomo guida la missione Unifil. L'Italia è in Somalia e con un proprio uomo un ammiraglio guida la missione Atalanta. L'Italia guida con un proprio ammiraglio la missione europea nel Mediterraneo. L'Italia è con un proprio uomo a fianco del segretario generale Ban Ki-moon come consigliere militare in Libia. l'Italia è impegnata con i propri uomini nei Balcani. L'Italia è in Iraq, dove con i carabinieri svolge uno straordinario lavoro di training e di formazione delle forze sul posto, sul territorio. L'Italia è con i propri aerei, con il tornado in Iraq. L'Italia è in molte altre parti del mondo che non cito per ragioni di brevità. L'Italia è il Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti naturalmente, e al fianco della Francia, con il maggior numero di mezzi all'estero, tra i Paesi della comunità occidentale. Questo fa l'Italia. Siamo pronti a intervenire dove è necessario, in un quadro di accordo e di condivisione da parte dell'intera comunità internazionale, se ce ne saranno le necessità e le condizioni. Ma non siamo d'accordo nel intervenire senza una strategia per il dopo, perché abbiamo visto ciò che è accaduto in Libia, dove da quattro anni la situazione è sostanzialmente impantanata perché l'intervento si è preoccupato dell'istante e non della strategia. Questo è il motivo per cui con grande serietà e responsabilità un Presidente del Consiglio non gioca il risico per far contenti i commentatori o la platea dei propri amici. Il Presidente del Consiglio chiede che ci sia un disegno strategico in cui impiegare il nostro Paese. È per questo che l'Italia è tornata nei tavoli diplomatici che contavano da cui era uscita. L'accordo sull'Iran è stato un accordo siglato da 5 più 1, dai cinque Paesi del Consiglio di sicurezza e dalla Germania senza l'Italia, perché allora il Governo non fu invitato. Noi abbiamo ripreso quel tavolo, lo abbiamo allargato, ci siamo dentro anche noi, stiamo a Vienna nella stessa città discutendo di Siria. e d'accordo innanzitutto con i nostri amici americani, con il Segretario John Kerry, cui va la mia personale gratitudine e quella del Governo, oltre che quella del Ministro degli Ester Gentiloni, abbiamo deciso di ospitare a Roma un'iniziativa sulla Libia, perché il format Vienna per la Siria sia, con le dovute modifiche, replicato sulla Libia. Questo è lo scenario nel quale noi ci muoviamo. Accanto a questo però, e concludo, vorrei che fosse chiaro che non basta annunciare un impegno diplomatico e realizzarlo, annunciare un impegno militare. C'è la necessità fortissima di intervenire sulle cause profonde delle tensioni che noi stiamo vivendo, a livello diplomatico innanzitutto, ma anche nelle nostre città, nelle nostre città europee. Ormai è quasi un mese dagli eventi di Parigi, c'è la scorsa quasi un mese. Non dimentichiamo che a Parigi, come era accaduto a Bruxelles, come era accaduto a Copenhagen, come era accaduto ancora prima sempre a Parigi con Charlie Hebdo, i terroristi erano cresciuti in Europa, nelle baglie europee, nelle periferie europee. Questo non vuol dire che non abbiano con Daesh contatti e in alcuni casi anche legami molto profondi, ma significa dire che intervenire sulle nostre periferie, lavorare sulle scuole, lavorare sulle ragioni della nostra appartenenza è l'unica strada, è l'alternativa al nichilismo dei terroristi. Non parlo di disagio sociale, attenzione, io non parlo di questo. Non pongo il tema semplicemente sulle condizioni economiche o di povertà, perché se è vero, è vero solo parzialmente. È un tema culturale di fondo, di ragione stesso, delle motivazioni che mi spingono a vivere in un certo modo. Ecco perché è fondamentale la scuola, ed ecco perché la scuola è la più grande frontiera del futuro, ed ecco perché, tornando al punto dal quale eravamo partiti, su cui le vostre domande non sono state praticamente numerose, detto tra di noi, l'investimento perché 20.000 bambini vadano a scuola in Siria è un grande investimento. Quando sentite dire qualcuno alla ricerca di voti, a caccia di voti permanente, che dobbiamo aiutarli a casa loro, esprimendo un concetto molto brutale, in realtà dice un concetto molto vero. Io sono d'accordo. Ma proprio per questo ho messo più soldi sulla cooperazione internazionale che gli altri avevano tagliato. Ma proprio per questo Enel fa un investimento per mandare 20.000 bambini a scuola in Siria. Ma proprio per questo noi pensiamo che sia fondamentale avere uno sguardo meno appannato sulla realtà. E proprio per questo vorrei dire all'UNHCR che continueremo a lavorare al suo fianco, voglio dire a Enel che siamo grati per ciò che avete fatto e state facendo e voglio dire a ciascuno di voi che vi saremo grati se, tra le tante notizie di giornata, se riuscite a dedicare uno spazio a questo, perché ciò che serve per sconfiggere i nostri nemici, perché i terroristi sono i nostri nemici, è innanzitutto un grande investimento sui valori e sulla cultura. E l'educazione è la madre di tutte queste battaglie. Grazie di cuore. Grazie.